Direttore di due missioni in Iraq meridionale, Adabut Beira e Eridu. Eridu è diventato sito UNESCO dal 2016, dopo che l'avevamo preso noi. Abbiamo lavorato due anni per far entrare il sito nell'UNESCO e alla fine ci siamo riusciti. È stata una grande vittoria per noi e per l'Iraq, ovviamente. Quello che bisogna ricordare è che una volta che un sito diventa patrimonio dell'UNESCO è solo l'inizio, questo che i miei colleghi irachieni stanno lentamente cominciando ad apprezzare. Non è la fine del processo, ma è l'inizio, perché è un volano che serve a proteggere il Paese da rischi maggiori. Questo è quello che fa l'UNESCO. Per quanto riguarda la questione del sistema italiano, direi che forse è la cosa da semplificare un po' parlando di carattere italiano. Noi abbiamo una certa tendenza a non riuscire ad essere del tutto formali nei nostri rapporti con la realtà. Questo ci aiuta a trovare con i locali una sorta di apertura, una porta che ci permette di guardarli e di farci guardare in modo paritario. Che forse è il vero segreto di quello che noi potremmo definire come sistema italiano. E poi questo ci porta però a un prodotto byproduct, come si direbbe, di una credibilità che abbiamo ai loro occhi. Cioè questo è il vero segreto, perché poi non si tratta tanto di simpatia, sono simpatici, giochiamo, scherziamo. No, si tratta di una credibilità che noi abbiamo ai loro occhi. Come dire, loro ci guardano non come dei maestri, ma come delle persone da ascoltare, perché sono persone di cui ci possono fidare. Forse è questa fiducia che noi riusciamo a creare, che è il vero segreto del sistema Italia, se ce n'è uno.